Stamattina però fa un bancho che è successa una cosa grave, una rapina con morto. Ho avuto una mattinata un po' movimentata. Stamattina mi sono andato a piacolo, io gli aspettavo. Apri! Salesi è un ostaggio. Chi la sta seguendo questa cosa? Don Lorenzo. Un cazzo. Non è come pensavo? Eh no, come stiamo parlando del futuro marito della mia figlia. Devi risolvere il problema. Il magistrato inizio è soltanto semplorico. Io domani parto. Io sto paese del cazzo, lo accanno, ma definitivamente. E uno farebbe male a mancare la mosca. Qualcosa da nascondere. Si è corrotto il file con le immagini della ravina in banca. Ma una colla. Tu chi cazzo sei? Volus. Lo chiamavo il persiano perché stava sempre attueta. Dopo trent'anni che lavorava dentro quella cazzo del banca, a mia madre manco dieci mila euro gli hanno dato. Andaci. Ma dove c'è cittadino? Hai ucciso un uomo. Io non l'ho ammazzato nessuno, sarò morto di fame ma non sono assassino. Come faccio a fidarmi di te? Tu già te sei fidato. Se fanno finta che sei un cliente. Che magari ti botto vado via. Dopo quella vita del merda che hai fatto che potevi lasciar fuori, eh? Ma Severio sei un puraccio. Solo il ladro potevi fa' Dai alza ste mani! Ah, l'amore che vi riempie la bocca e non c'è, non sapete nemmeno cos'è. Sì, l'amore, hai colpito il silenzio che è mio al tramonto di Dio. Ciao! 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 Ciao!